Conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della campagna acquisti e cessioni invernale. Cristiano Tromboni, direttore sportivo, allora c'è soddisfazione, immagino, anche perché la squadra di fatto è diventata ancora più forte di quanto era. Dobbiamo confermare questa forza, però già dalle prime uscite, da Pro Livorno in poi, quando abbiamo iniziato a vedere i nuovi, si sono visti risultati differenti. Per noi è importante questo. Il gruppo si sta amalgamando pian piano e sono soddisfatto degli acquisti effettuati, della rosa che ad oggi abbiamo a disposizione. Credo che siamo completi in tutti i reparti, abbiamo diversi doppioni nelle varie zone del campo e addirittura in alcune ci ritroviamo a avere tre giocatori. Non è un caso, perché dovremo affrontare questa l'era del Covid, quindi dovremo affrontare 18-19 partite mancanti e non dovremo avere mai defezioni. Quindi dobbiamo essere forti e sopperire anche a infortuni, squalifiche e magari giocatori che escono positivi al Covid. È una rosa molto, molto competitiva, quindi facciamo i complimenti alla società e a lei che ha operato sul mercato. In attacco in particolare l'Arezzo non ha nulla da invidiare a qualche formazione di SRC. No, assolutamente, in attacco come negli altri ruoli siamo una squadra forte, altamente competitiva, abbiamo diversi giocatori, diversi grandi e abbiamo anche un paio d'andere che ci potrebbero giocare, quindi ci sentiamo molto completi nel reparto offensivo. Speriamo che dai loro piedi arriveranno i gol decisivi da qui a fine stagione. Certo l'Arezzo adesso è chiamato davvero a fare una bella rincorsa a 10 punti di svantaggio nei confronti della prima, però ha anche qualche squadra davanti, quindi non sarà assolutamente semplice. No, nulla è semplice, questo è un campionato difficilissimo, l'abbiamo visto e l'abbiamo provato fino ad oggi sulla nostra pelle. Noi dobbiamo fare un campionato a parte, dobbiamo giocare questo girone di ritorno pensando gara dopo gara e provando a vincerle tutte. Poi a fine anno alzeremo la testa e vedremo dove siamo arrivati. Speriamo che poi questa cosa ci premerà, non possiamo guardare i risultati delle avversarie. È normale, lo dice la matematica, che nonostante magari riusciamo a vincerle tutte, dipendiamo comunque dai risultati altrui. Quindi noi ad oggi pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, che è vincere tutte le partite. Poi vediamo gli altri che cosa faranno, se avranno dei passi falsi. Allora, lei nel corso della conferenza stampa ha tenuto in chiusura a precisare che la campagna Acquisti l'ha condotta lei e che non ha seguito neanche i consigli di nessuno. No, assolutamente, ci tenevo a precisare questa cosa e la società mi ha messo a disposizione tutti i mezzi, mi ha dato carta bianca, ringrazio sempre la società, ma sono stato io in prima persona a effettuare questo mercato, a fare tutte le varie strategie e le varie scelte. Mi sono rapportato, tra virgolette, solo con lo staff tecnico, quindi con l'allenatore e basta. Ho avuto il normale, essendo giovane, ti chiamano in tanti, in tanti vogliono darti consigli, vogliono dirti delle cose, però io ho sentito tutti, ma alla fine non ho ascoltato nessuno.